Siamo con Totò Schillaci proprio verso l'avanti a... Il manichino è rimasto, è rimasto solo il manichino, quindi... Dico, è rimasto solo il manichino, quindi ormai il giocatore non giocò più, quindi è rimasto... Rimarrà solo questo nella vita. Scherzava così ai nostri microfoni sulla fine della sua carriera e sul fatto di essere ormai da tempo un ex calciatore. Una delle ultime apparizioni pubbliche di Totò Schillaci prima del ritorno della malattia che oggi lo ha portato via per sempre è stata qualche mese fa a Campobasso. A marzo venne in Molise insieme ad un altro ex campione azzurro, Franco Selvaggi, per inaugurare la mostra dedicata alla storia della nazionale di calcio italiana. Anche in quella occasione inevitabile per lui il ricordo delle notti magiche di Italia 90. Quel ragazzo di Sicilia che diventò eroe di una nazione in pochi giorni segnò tanti gol e si aggiudicò i titoli di capo cannoniere e di miglior giocatore di quei mondiali. I ricordi stanno sempre nella mente quindi non possono mai passare. Poi se uno come me che ha fatto un grande mondiale i ricordi non finiranno mai quindi. E grazie ai mondiali, insomma, grazie alla nazionale, insomma, mi ha fatto conoscere in tutto il mondo. Questo è importante. Schillaci si è spento a 59 anni dopo aver combattuto contro un tumore. Le sue condizioni nelle ultime settimane si erano aggravate. In occasione di quella sua visita a Campobasso aveva esortato tutti a non guardare solo alle vittorie, ma anche alle sconfitte. Nel mondo del calcio ci sono le vittorie e le sconfitte. Ci sono momenti storici, momenti che riesci a ottenere dei risultati importanti vincendo tanto. Ci sono alcuni giocatori che sono stati competitivi nel mondo del calcio. Magari non vengono ricordati e invece io fino a 32 anni di distanza ancora le persone si ricordano.